Il Dio fedele non può rinegare se stesso, non può rinegare noi, non può rinegare il suo amore, non può rinegare il suo popolo, non può rinegare perché ci ama. Questa è la felta del Dio. Quando noi ci accostiamo al sacramento della penitenza, ma per favore, non pensiamo che andiamo alla tintoria a togliere le sporcizie, no. Andiamo a ricevere un abbraccio d'amore di questo Dio fedele che ci aspetta sempre, sempre.